Perdere il derby fa sempre male, hai sempre di cavolatura dentro di aver perso il derby della cittadina, anche se Roma è solo della Roma e anche se i lazzesi hanno sbagliato clamorosamente la coreografia, ma fa sempre male perdere il derby, è un peccato, si si sente sempre molto incazzati dentro, purtroppo in difesa non abbiamo retto, facendo il campo non abbiamo retto e niente, è andata così. Comunque ci sono stati segnali positivi e speriamo per il futuro. Cosa ne dici del rigore? C'era il rigore, era da dare, come era netto un altro rigore da cui è nato poi il gol della Lazio, ma sappiamo che gli arbitri, noi giochiamo sempre 11 contro 13, ma 11 contro 11. La reazione di Murigno? Murigno ha fatto il Murigno, ha portato i ragazzi sotto la curva, ha lottato, quindi siamo nelle sue mani e possono esserci mani migliori. Molto bene, altra cosa vuoi dire? Forza Roma sempre, ma comunque.